Completati i lavori al centro sportivo delle scuole medie di Vertu, adesso viene anche il momento di inaugurare il complesso. Ricordiamo che cosa è stato realizzato. Sì, la palestra già esisteva, la palestra però ovviamente era dattata a diversi anni, quindi sono state fatte l'anno scorso una serie di interventi che l'hanno di fatto realizzata, quasi nuova, sostituita. Abbiamo rifatto la copertura e la copertura ancora in Eternit, quindi è stato rifatto completamente sia la parte superiore che la parte interna, sono stati smaltiti gli Eternit, è poi stato realizzato sopra il tetto l'impianto fotovoltaico, è stato rifatto il rivestimento e la coibentazione interna, rifatta la pavimentazione, l'impianto poi di riscaldamento a pavimento, poi sono state messe a norma alcune uscite e parte delle entrate rifatte alcune porte, quindi di fatto è rimasto esclusivamente l'involucro iniziale e tutto il resto, complesso anche i serramenti esterni, sono stati completamente sostituiti. Successivamente invece, cosa proprio di questi giorni, quest'anno è stata realizzata la pista di atletica leggera, quindi l'intervento non è in termini proprio di importo elevatissimo, sono 38 mila euro, tuttavia anche qui però la pista atletica è stata messa, diciamo anche dal punto di vista proprio tecnico, è stata creata una pista molto più utilizzabile anche per quanto riguarda le prove e le corse. Verrà utilizzata dalle scuole medie, ma viene utilizzata anche questa, soprattutto dal Gav Vertua, che ricordo ha ottenuto in campo dell'atletica e della corsa in particolare risultati sempre notevoli, quindi verrà utilizzata da loro la pista anche per fare gli allenamenti. Centro sportivo che sarà intitolato alla memoria di Mario Merelli, come è nata questa scelta? Sì, questa scelta è nata prima di tutto dalla fine dei lavori di questa palestra, di questa pista, che non ha mai avuto un nome, quindi erano annessi alla scuola, erano sempre stati considerati come la palestra, la pista della scuola. Ci è sembrato giusto, vedendo i risultati sportivi di Mario, quindi la scala di 18 mila, e i valori morali che l'hanno sempre visto primeggiare nelle nostre valli, ci è sembrato la persona giusta a qui dedicare, proprio intitolare la palestra, la pista, che da oggi in poi diventeranno il centro sportivo Mario Merelli. Per l'occasione avete voluto organizzare una serata in ricordo di Mario Merelli. Come sarà? Sì, abbiamo fatto coincidere la serata della giornata del 29 dicembre, sarà il 29 dicembre, con l'intitolazione della palestra e della pista come centro sportivo e alle 8 di sera, e alle 8.40 invece di fronte alla Pia Casa, nella Sala Polivente, faremo una serata in cui ricorderemo Mario, trasmetteremo delle foto, dei video inediti che raccontano la vita di Mario, saranno parecchi ospiti che hanno conosciuto Mario, che porteranno una loro testimonianza, quindi racconteranno qualche aneddoto della sua vita ed è un modo per ricordare Mario per tutto quello che ha fatto e tutto quello che ha lasciato a noi e ai nostri concittadini. Tutto questo anche perché, è bene ricordarlo, Mario Merelli è nato a Vertova. Sì, Mario è nato a Vertova, quindi noi ce lo sentiamo, ce lo sentiamo un po' a Vertovese già due anni fa. Quando abbiamo premiato tutti gli azzurri, tutte le persone Vertovese che hanno visto la maglia azzurra, in quel caso l'abbiamo premiato perché comunque già lo sentiamo, lo sentiamo nostro compaesano, lo sentiamo Vertovese, spesso lo vedevamo qua a Vertova, per cui lo consideriamo Vertovese. Grazie. Grazie.